Ma sono molto felice perché, diciamo, come segretario regionale ho messo tutte le bandierine del PLI, più o meno quasi tutta la Toscana, mancava Arezzo. Sono segretario regionale e mi mancava proprio casa mia. Quindi devo ringraziare questi ragazzi, tra virgolette, che hanno deciso di rifondare ad Arezzo un qualcosa che era assente ormai dagli anni 90. Il Partito Liberale Italiano ha annunciato recentemente la formazione della sua sezione provinciale ad Arezzo, che mancava nel panorama politico aretino dal 1993. Il nuovo segretario provinciale è il medico cardiologo Roberto Perticucci. L'imprenditore Emiliano Taranghelli, invece, sarà il presidente provinciale. L'era, diciamo, post-berlusconiana ovviamente è un primo punto di partenza. Questo termine liberale, insomma, già ci porta ovviamente su determinati temi sui quali immagino vi vorrete impegnare. Certamente sì. Berlusconi ha promesso una rivoluzione liberale, ma poi non l'ha portata a termine. Quindi noi speriamo di poter, in qualche modo, portare avanti questo progetto. Un progetto molto ambizioso e ci basterebbe anche una piccola porzione del pensiero liberale realizzarla realmente, però ci proveremo. Ecco, perché in Italia si fa fatica ad affermare il pensiero liberale, secondo lei? Perché è un pensiero un po' di elite, diciamo, minoritario per vocazione. E poi in Italia c'è sempre stata una cultura di tipo massimalista, dai comunisti, i democristiani, anche il fascismo. Cioè, quindi, sono sempre stati difficili gli spazi per la cultura laica e liberale. Come guardate alle sfide? Immagino che questa ricostituzione a livello provinciale sia anche, in questo senso, elettorali che ormai, insomma, sono alle porte. Dunque, noi, per usare un termine, diciamo, d'attualità, siamo fluidi. Quindi cercheremo di parlare con tutti gli altri partiti localmente, ovviamente quelli che hanno con noi un qualche tipo di affinità culturale. Quindi non penso che parleremo con i Cinque Stelle, perché abbiamo poco da dirci, probabilmente neanche con il PD, però con gli altri, più o meno, penso che si possa mettere in piedi un colloquio e vedere un po' come va a finire. Le idee verranno raccolte in un convegno intitolato Il futuro dell'area liberale nell'era post-berlusconiana che si terrà ad Arezzo in autunno, coordinato dal giornalista ed ex parlamentare Paolo Guzzanti. C'è chi già pensa addirittura alle sfide regionali, avrà visto, insomma, partiti di maggioranza come Fratelli d'Italia, lancialo già le sfide per il 2025. Voi vi state preparando? Noi attualmente siamo alla finestra a guardare un po' l'evolversi della situazione e di questi schieramenti. È ovvio che andremo sicuramente a intercettare quelle persone che hanno qualcosa in comune con noi.